Sono ormai passati dieci giorni dalla tragica morte della Piacentina Gaia Molinari, ritrovata senza vita al giorno di Natale sulle spiagge di Jericho Coara, in Brasile, da due turisti. La 29enne, residente da qualche anno a Parigi, andata dall'altra parte del mondo per fare volontariato a favore dei bambini delle favela, probabilmente la sera precedente, quella della vigilia, è stata strangolata e poi colpita al capo con una pietra. Per l'omicidio è in carcere la farmacista Miriam Franza de Melo, 31 anni, di Rio de Janeiro, che aveva accompagnato Gaia nel viaggio a Jericho Coara. Secondo la polizia, sarebbe coinvolta nel delitto. Gli investigatori brasiliani ritengono che con le sue dichiarazioni, quando era ancora a piede libero, abbia provato a depistare le indagini, quasi certamente per coprire qualcuno, indicando ad esempio due sospettati che poi si sono rivelati estranei ai fatti, come ha riferito anche il vice consul italiano a Ressife, Cesare Villone. Sicuramente qualcosa di più si potrà sapere dopo i risultati degli esami effettuati sul corpo della volontaria piacentina, a cominciare da quello del DNA, sulle tracce trovate sul corpo della vittima. La salva si trova ora a Fortalessa, non è ancora possibile capire quando potrà tornare in Italia per i funerali. La madre dovrebbe partire presto per Parigi per recuperare gli effetti personali della figlia morta. Nel frattempo in Brasile è partita da parte dei familiari e degli amici di Miriam Franza de Melo una campagna per la sua difesa. Su Facebook è stata aperta una pagina che ne chiede la liberazione, invocando giustizia per lei e per la stessa Gaia. La madre di Miriam, Valdissea Franza, sostiene che l'omicidio sia dovuto a ragioni passionali, che la figlia sia innocente e che sia stata arrestata non per le contraddizioni nelle sue dichiarazioni agli investigatori, ma perché è nera e povera, ossia il colpevole perfetto per la polizia brasiliana.